Musica Ben trovati ragazzi, sono la Smash E oggi siamo su Spin Tops Un gio... Un simulatore di trottole Un gioco carino Dove avete anche la possibilità di Personalizzare le vostre trottole Come dico trottole, un scioglilingua Trottole quindi Ognuno ha diverse strategie Eh sì, strategie, ma come paro oggi Caratteristiche Non ho ancora capito qual è la migliore Ma io uso Questa qui che non mi ricordo Il base part è il Tesla No, questo... Ho sbagliato Il Spin Disque è il Tesla E vabbè, poi sta l'Arcane Non siamo qui per parlare di cose E... Diciamo, i scenari sono abbastanza carini Ma... Purtroppo Da pecchi che questo è a pagamento Eh sì, se la devo mettere 90 centesimi Con quei 90 centesimi Sblocca pure i pulsanti del supporto E non mi ricordo cosa Lo dice qua? No, non ho neanche la connessione da internet Vabbè, aggiunge delle cose Se volete spendere 90 centesimi Centesimi per i contenuti aggiuntivi Vedete voi Abbiamo diverse modalità Lo scontro La carriera Il torneo Ma lo scontro può essere pure con l'arcade Sopravvivenza Anche se è un po' difficile Sopravvivere Ma partiamo con Che patato Devo mettere l'arena Con lo scontro Tiriamo bene? Ho tirato 1700 Vabbè, non ti va bene Purtroppo non vedo la quantità La quantità Mannaggia Acqua Posso... No, niente Ma mi sta soltanto il video con questo I comandi sono abbastanza semplici Basta muovere il telefono Ecco, sono andato a sbattere Ma non dimmi che soltanto lui rimane Trottola troppo forte Prima le perdevo tutte le partite 2000 Ok, peggio Sa un di 7000 Mannaggia al Tesla Aia Non i Tesla Di Crash of Clans Di Crash Royale I Tesla come trottola Che io so Aia 700 No, sta pure al posto del tempo Ma perché vado ad attaccare il porto Era già morte Riuscirò io a... E risuscitare No A sopravvivere La vedo un po' Non andare a sbattere contro la parete Che muoio Oh Ho recuperato tantissimo Ah Troppo forte Vabbè Questi match sono proprio belli, eh Ce ne sono diversi Ma noi usiamo Nel... Hexacomb Vediamo se riesco di attivare questo Otterre del Tesla Mio perché è bellissimo Sa pure del fuoco Potere Disponibile soltanto in arcade Ho perso Ma Scusami Non è arcade Devo morire subito Ho sbagliato Devo mettere arcade In Hexacomb Vediamo di dare una bella carica Che durerà in eterno Sette mila Perfettissimo La barra in basso a sinistra È il potere Non tutte le trocele ce l'hanno C'è quello con l'immagine del fuoco Io ho messo l'immagine del fulmine Morto male Come quello di Minecraft Non lo dovrei dire Niente Non avete sentito niente Pass Io mi andrei a sui Ecco Ecco E Vabbè Rifacciamolo Sono partito malissimo Mille seicento Giro al secondo Duemila Meglino Ma uccidiamolo Subito Vai Ho sbattuto La rete Sei visto tanto Ecco Ma In questo Partita Oltre Non so se avete visto in alto A sinistra Ero A Zero Giro al secondo Non so come sono arrivato A sette Forse Non so Io vado a suicidarmi In alto a sinistra Due Uno Sette mila Dovei Vivere molto Pam Questo c'è un attacco Bello alto Questa trottola Non la mia L'avversario Ma Mori male Ma perché Si aggiungono Torte Si torte pure Trottole così Mi ha dimezzato Ah Mori No Ho toccato Vabbè A me non è molto male Ah magia Sono arrivato Ogni volta che ammazzi Una trottola Sare di vita E' pronto tra un po' Che potere speciale Colpo del tesla Mamma mia Bellissimo Oh c'è una trottola Oh c'è una trottola Ah Ammi Su che c'erano gli altri Ho stato Forgolato io Ammo Lo sarete voi Che carino Dovei amare la trottola Perché se no Non si ricarica il trottola Mamma mia Sto assorbendo L'energia tua Ok finita l'energia Ma è una cosa Spettacolare Mamma mia Ammo è morto Mamma mia Ma perché Di mare Bellissimo Posso farlo di nuovo Ah Muori Muori Non c'è di un altro Qua Bellissimo Vero Questo gioco E' un dei miei preferiti Ehm Peccato che non so Che non si può so fare Che è bella così Ehi trottola Muori male Sui 6.000 giro al secondo Cioè Non mi finisce ma Ma Non è successo un bug È successo un bug Non doveva succedere Non doveva succedere Perché non mi scende più l'energia Oppure sono così forte che Cioè così forte Ma sono così veloce Che cosa Diciamo che questo gioco Che si può fare nel tempo libero Ma Ma si lumina Carino Uh Quale sono Ma chissà dove si Se bagate il potere Che morto Non faceva più più Mammone Peccato che questa è una modalità dove si è Mi è finito il potere No mi è finito il potere Peccato Peccato che questa è una modalità infinita Non finisce mai Quindi a parte andare a sbattere contro le pareti Dovei attaccare Dovei attaccare Ah l'urricaine Come si chiama La più ti Penso di essere fritto Sì sono fritto 2000 No 4000 No 4000 Ok Ora attacco Suicida Vabbè Ho sa dire tac tac Non posso dire un'altra cosa Tranquilli ragazzi Sono morto 700 Giri al secondo 600 900 No 600 Boh 7000 Più il fulmine Aha Chissà perché quando gioco con voi Vabbè Muoio col fulmine Pa Oh ma non posso morire col fulmine Ragazzi non ci credo Sono immortale Ok Sono mortissimo Vabbè Per un piccolo assaggio Della carriera Un torneo Io non ho Altri soldi Non li voglio neanche spendere Altri tornei si sbloccano vincendo Ma Ma È difficile Perché magari ti mette Arena È difficile Comunque In ogni Io ho parlato soltanto Non ho fatto trucchi 7000 Ho vinto all'inizio Ah no Però è questo avversario 7000 Ah Ma già vinco Quando stanno 7000 Allora La cosa Fortissima Che ho fatto è Ehm La base di sopra Hurricane Il tesla come disco Di ferro interno È da parte sotto Dello star Con mi sembra È attacco 4 Risultato vincente Vabbè Io continuo così Finché Non perdo il torneo Poi finiamo tutto Via 1900 Se fosse Ho perso Sono consapevole di perdere Perché 1000 Non Vincerò mai 500 Già io Cioè ho perso 148 Eh L'avevo detto io Se perdo questa partita Perdo 1000 Ho perso Ma io mi vado a suicidare Non so perché Volo dall'arena 100 Voglio morire fuori Vabbè ragazzi Ero già morto 30 gira al secondo Sei già morti E vabbè Peccato Non sono arrivato Al primo posto Io ho vinto 50 esperienze Bellissimo E ora Quanto esperienzo Oh Dal bug Che Non Praticamente No Quando lagga il gioco Cioè Quando hai cliccato una volta Che ne so A me è successo Nella Launch cord Che devo comprare Quella gialla No Questa ce l'ho Quindi La corda gialla Soltanto una alla volta Può avere Comunque Quando Dovete comprare una cosa Cliccate una volta Non la cliccate un'altra volta Perché Se no Vi mette due costi E vi va in negativo Cosa che mi è successo Comunque Se è bloccato La Dai Vabbè Questa è la Spintop A questo punto Faremo un recensiamo Insieme Se riesco Video Tantissimi video Ho dovuto guardare Per avere Video pubblicitarie Per avere Abbastanza esperienza E ho Comprato I componenti No Veramente Anche se si perde Si prende un minimo Di esperienza Però Anche quando Sei connessi Con internet Qualche volta Vengono le pubblicità E vi fa guadagnare 240 Non 120 Però A dire la verità Dopo il primo componente No Due componenti Primo L'immagine Che non è servita a niente Oltre quel potere E E un altro componente Che mi ha dato La difesa Più o meno Qualche partita Sono riuscito A vincere Quindi Io Quando recensisco Giochi Possono Migliorare O peggiorare Però In tutta la serie Questo gioco Se fa gli aggiornamenti Vi valuto Però Per me Com'è La grafica è bella Qualsi Qualche piccolo bug Ma Diciamo che poi Sì Avete visto Nella disposizione Delle trottole Ogni tanto Va un po' laterale Però poi sa giusta Non è che Che ne so Si bugga Che mentre Non è mai successo Può darsi per Che succede Non è che ogni volta Che fate una partita Ogni tanto Andate sotto arena E meno male Allora Come titolo Metterlo in pausa Gioco molto bello Ma se aggiungereste Nove trotto Le componenti Sarebbe meglio Vediamo un prossimo video Consigliatemi noi i giochi Grazie a tutti Grazie a tutti